Siamo a quota 235.000 iscrizioni e dato che a maggio di quest'anno saranno 10 anni dall'apertura del canale YouTube l'obiettivo è uno e uno solo, dichiarato quota 250.000 iscritti e dato che tanti di voi guardano i video senza essere iscritti beh vi chiedo una cortesia, se siete interessati a tutti i contenuti che porto lasciate un'iscrizione a questo canale ovviamente un mi piace per spammare all'algoritmo di YouTube questo contenuto a tante altre persone farle aggiungere alla nostra community e lasciatemi un commento qui sotto nell'apposita sezione per farmi capire che cosa ne pensate di quella che è stata la conferenza stampa di Allegri gli argomenti trattati e quella che invece è la mia lettura sulla conferenza stampa conferenza stampa di vigilia di una partita che è fondamentale per quello che sarà l'esito del campionato perché domani c'è un vero e proprio crocevia la Juventus può anche se solo virtualmente sorpassare, scavalcare l'Inter e guadagnarsi il primo posto in classifica i Nerazzoni non giocheranno, saranno destinati alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli lunedì sera e quindi è un'occasione irripetibile per la Juventus Allegri dice la squadra sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri e oggi abbiamo fatto la rifinitura io aggiungo, la squadra sta talmente bene che sicuramente saranno assenti rabbio e chiesa rabbio per un affaticamento al polpaccio, meglio non rischiare perché il polpaccio è delicato mentre Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio un trauma contusivo che verrà rivalutato nei prossimi giorni facciamo così, per chi segue le partite live su Twitch con me sa bene che quando metto il cappuccio la situazione è in critica inizia ad esserci quella tensione e ansia da fine partita, da minuti di recupero dove bisogna portare a casa il risultato io inizio ad essere preoccupato per Federico, molto preoccupato perché chiesa è un giocatore che la Juve non può permettersi di non avere a disposizione questa Juve non può prescindere da Federico Chiesa nonostante Hildes stia facendo non bene, benissimo la Juventus non può fare a meno di Federico Chiesa questa cosa ricordiamocela, questa cosa salviamola nella nostra memoria perché non bisogna darlo per scontato non bisogna pensare che Chiesa sì, Chiesa non sia la stessa cosa e dato che Federico è un giocatore con un contratto in scadenza poi nel 2000 mi pare i 25 è che sul rinnovo di contratto di Chiesa ci sia ancora un po' di discussione non si capisce esattamente dove si sta andando io un po' di preoccupazione ce l'ho, vi dico la verità voglio mettere sul tavolo tutte le mie emozioni sono un po' preoccupato per questa cosa qui sia per come sta lui fisicamente perché il ginocchio è una zona che non va sottovalutata a maggior ragione dopo un intervento delicato come quello che ha subito Chiesa è perché ultimamente sta saltando troppe partite convocato, spezzone di gara, allenamento, fuori riposo, recupero, convocato, spezzone di gara, partita, fuori non va bene, non va bene, sono molto preoccupato sono meno preoccupato per il polpaggio tirabio che sì, è una zona delicata io ricordo Chiellini che aveva un fastidio al polpaccio e spesso e volentieri se lo portava dietro e spesso e volentieri doveva rimanere fuori per determinate partite è una cosa che ricordo assolutamente e io quest'anno ho iniziato ad avere un po' di dolorino al polpaccio e mi rendo conto che è qualcosa di molto fastidioso nel mio piccolo che ovviamente è distante da quella che è la valutazione rispetto a un calciatore professionista Rabiot mi preoccupa meno, Chiesa mi preoccupa di più giocare a Lecce è sempre complicato escono partite non belle, difficili e scomode hanno fatto un'ottima partita a Milano con l'Inter e una bella Roma con la Lazio io non ho visto la partita di Roma con la Lazio e quella con l'Inter ho qualche ricordo sono una squadra che crea, difende molto bene e soprattutto le ultime quattro in casa ha sempre fatto risultati positivi quindi stiamo attenti a questa cosa ma allo stesso tempo rendiamoci conto che la Juve ah no quella con la Lazio adesso mi è venuta in mente quella con la Juve la Juve non può assolutamente intanto sottovalutarlo indubbiamente non va sottovalutato però bisogna anche secondo me tirare a fare un moto d'orgoglio giunti a questo punto della stagione in cui non si è ancora fatto niente ma la Juventus deve assolutamente ragionare in virtù del fatto che a Lecce bisogna vincere domani bisogna andare là e fare una partita in cui si porta a casa il risultato pieno certo rispetto degli avversari ma rispetto anche della Juventus della storia della Juventus e della posizione in classifica della Juventus di quello che hanno fatto i ragazzi fino a questo punto queste sono cose che secondo me vanno messe in primo piano non focalizzarsi solo sul ma Lecce ha fatto 4 partite in casa con risultati positivi benissimo meraviglioso significa che sono magari in un momento di forma interessante però noi siamo la Juventus l'obiettivo del Lecce è salvarsi in Serie A l'obiettivo della Juventus dichiarato è la Champions League e anche oggi se ne è discusso anche tanto però c'è qualcosa di più lo sappiamo tutti non prendiamoci in giro ho parlato con Ken per sapere come sta domani ricomincia a correre al mercato ci pensano i dirigenti e ne hanno già parlato nei giorni scorsi e hanno fatto capire che effettivamente su Ken bisogna aspettare un attimo per semplicemente indovinare quella che sarà poi la destinazione sembra Atletico Madrid ne abbiamo parlato ieri vi lascio comunque il video qui sopra nelle schede non è scontata la gerarchia sugli esterni Cambiaso ha giocato anche da mezzala è cresciuto molto e sono contento è sempre stato valido tecnicamente ha avuto un periodo di difficoltà dopo la turnestiva ma ora è un giocatore importante un periodo di difficoltà dopo la turnestiva di Cambiaso faccio un po' fatica a ricordarlo perché a me in turn non l'aveva impressionato tanto però poi Cambiaso parte titolare a sinistra le prime due partite quest'anno fa secondo me molto bene e poi ritorna Kostic torna Kostic e diventa il titolare lì con dall'altra parte Wehao McKennie poi Cambiaso entra in rotazioni anche come esterno destro o come mezzala come abbiamo visto fare nell'ultima partita però io mi ricordo magari un paio di partite di Cambiaso in quel dato di difficoltà Allegri dice che è stato proprio un periodo di difficoltà io questa cosa non la sapevo e quindi la segno e l'aggiungo alle cose che non erano venute fuori e di cui non conoscevo niente insomma e poi Allegri un po' si spazientisce sì ce l'abbiamo fatta perché continuano a fare le domande sullo scudetto sul lungo la testa della classifica io ne ho già parlato tante volte io non credo che sia utile in questo momento fare questa domanda di Allegri che dal giorno uno porta avanti una linea comunicativa che è condivisibile per me no però è questa condivisa invece anche dalla società e dalla dirigenza ed è questa che a me non piace ma è questa e non vedo il motivo per andare in conferenza stampa a fare ancora sempre solo domande sulla testa della classifica lo scudetto qual è l'obiettivo così per me è inutile per me è inutile una perdita di tempo senza uguali però siamo qui balliamo dai e Allegri dice non si deve parlare di niente domani serve provare a vincere le partite che non è mai facile soprattutto vincere a Lecce e qua torna in gioco il discorso che abbiamo fatto prima noi nelle ultime 4 trasferte abbiamo sempre preso gol obiettivo numero 1 cercare di non prendere gol Lecce nelle ultime 4 trasferte nelle ultime 4 in casa sempre su dati positivi noi nelle ultime 4 trasferte abbiamo sempre preso gol il dipinto che fa Allegri è di una Juve svantaggiata nell'andare a giocare a Lecce è incredibile guarda che Allegri ha un talento in queste cose che è incredibile lo dico proprio dal profondo del mio cuore senza prendere gol partiamo avvantaggiati per quanto riguarda il discorso campionato mancano ancora tanti punti per cercare di arrivare alla quota Champions e Allegri in giacca e cravatta oggi particolarmente elegante dice quello è il nostro obiettivo Dusen è cresciuto molto sia nelle prestazioni in campo sia come approccia le partite in modo sereno e tranquillo quello è un ulteriore passo avanti che lui sta facendo verso la completa maturità poi la battuta di guardie ladri anche qua abbiamo fatto un video un contenuto riservato e dice magari quella cosa ha fatto divertire ma era solo una battuta nel post gara dove ho usato una metafora di un gioco che facevamo da bambini si parlava di una squadra che sta davanti e una che insegue noi l'unico inseguimento che stiamo facendo è quello del raggiungimento il prima possibile della Champions quello è il nostro obiettivo allora qua invece ce la butta dentro lui no? il discorso l'obiettivo la Champions i primi quattro posti bla 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 io dico che sono stanco di sentire che gli chiedano queste cose e sono anche stanco che sia lui a metterle dentro ogni discorso perché io provo a tornare a due anni fa quando Allegri torna alla Juventus quasi tre in realtà due anni e mezzo stiamo parlando di uno degli allenatori comunque più vincenti della storia della Juve volenti o nolenti uno può pensarla come vuole su Allegri ma questo è un dato di fatto Allegri è uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve e del terzo allenatore pre-presenze nella storia della Juventus questo non è in discussione questa è roba che è scritta nelle stelle è scritta nella storia quando è tornato Allegri io mi ricordo che si diceva torna Allegri perché si torna a vincere perché si va a inserire qualcos'altro nel ciclo di Allegri nel ciclo vincente se due anni e mezzo fa mi avessero detto guarda Luca che al terzo anno di Allegri il mantra sarà l'obiettivo stagionale della Juventus e la qualificazione in Champions mi sarei fatto una grossa e grassa risata dicendo ma voi non state bene questo lo devo dire proprio fuori dei denti assolutamente quindi io sono stanco sono stanco poi sono affari miei ma ci tengo a condividerli con voi sono stanco di sentire i giornalisti che fanno le domande su questa roba e sono stanco di sentire Allegri che la butta dentro ogni due tre per due cioè delle due non diciamo niente io non io credo che non sia nemmeno rispettoso nei confronti di quella che è stata la storia di Allegri della Juventus nel primo ciclo poi sono pensieri miei opinioni mie condivisibili o no ma sono cose che non mi piacciono e non mi piace appunto che continuino a chiedergli e allora Allegri dopo si stanca e dice parlare ora è di andare in testa alla classifica allora giochiamo la partita cerchiamo di vincerla che sono tre punti importanti ne mancano ancora tanti ad andare a fine campionato sappiamo che l'Inter sta facendo cose importanti e straordinarie sono una squadra forte favorita per lo scudetto noi dobbiamo fare tanti punti prima i punti per la quota Champions e meglio è stiamo facendo un percorso di crescita i ragazzi stanno crescendo stanno facendo bene la squadra in autostima ma vincere a Lecce è comunque complicato Allegri è la terza volta che dice questa frase mettendo il focus su quello che è l'appuntamento di domani che la Juve non può e non deve sbagliare e fa bene Allegri a mettere il focus qui l'anno scorso abbiamo vinto 1-0 gol di Niccolò Fagioli che entra nelle gerarchie della Juventus le partite a Lecce sono sempre difficili e vincere le partite dopo sono tutti bravi il risultato ma prima sono difficili e complicate vanno giocate e domani partiamo sullo 0-0 come in ogni partita di campionato aggiungo io poi dice ecco qua domanda di TuttoSport su Tortu i cavalli i paraocchi mi è scesa completamente qua è proprio una roba che mi è scesa completamente diventa interessante nella seconda parte ve la faccio breve TuttoSport ci abbiamo intervistato Tortu Tortu dice che i suoi allenatori in atletica dicono di fare come nelle corse ai cavalli di mettersi ai paraocchi non guardare gli avversari e concentrarsi solo su il cammino il rettilineo che va fatto la Juve deve fare come i cavalli gli atleti mettersi ai paraocchi non guardare l'avversario che è l'Inter e poi Tortu vorrebbe allenarsi con la Juve e le Grigie non c'è problema se Tortu vuole allenarsi con la Juventus ci sono dei cavalli che hanno i paraocchi e dei cavalli che non ne hanno bisogno la differenza è che alcuni hanno i paraocchi perché quando vanno vicino ad altri cavalli dà fastidio e magari o frenano o imettono il paraocchi così vedono solo davanti dipende non si sa ancora per la Juve la Juve non ha il paraocchi i ragazzi comunque mi sono piaciuti per come hanno giocato la partita con serenità e sicurezza importante questa prima parte di risposta io la trovo francamente inutile nel senso che i discorsi sui cavalli a me sinceramente me ne frega non zero meno di zero all'interno di una conferenza stampa di vigilia di Lecce-Juventus però questo è e poi Allegri però dice una cosa interessante ovviamente togliendo sempre quel discorso relativo alla qualificazione c'è a più spazio dice una cosa secondo me molto molto interessante e condivisibile ripeto quello che è stato fatto fino ad oggi non conta niente conta domani sera il calcio vive su equilibri e il fondamentale nel calcio sono i risultati frase importante quella che viene se non fai risultato una settimana puoi rovinare una stagione questo è un concetto da imprimere a fuoco nella mente assolutamente siamo a metà abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è quello della Champions League e la Coppa Italia da giocare poi Allegri dopo questo discorso che secondo me era interessante si mette a ridere lui quando si mette a ridere si fa le battute da solo e dice come dico sempre ad aprire la Roma si sta bene perché c'è il sole è una città meravigliosa che significa finale di Coppa Italia per intenderci però bisogna sempre pensare passo dopo passo pensare lavorare a migliorare con entusiasmo e voglia senza cadere nella presunzione nella troppa euforia nella presunzione no nell'euforia si io dico però poi è ovvio che la Juve non deve farlo ma il tifoso lo deve fare il tifoso deve farlo se al tifoso togli l'euforia togli tutto togli il divertimento togli l'entusiasmo togli la voglia di andare allo stadio togli la voglia di vedere le partite togli la voglia di parlare di calcio l'euforia ci deve essere nello spogliatore della Juve deve essere contenuto deve essere dosato indubbiamente ma deve esserci anche lì perché è quella cosa che ti permette poi di andare oltre i tuoi limiti e prendere quei risultati anche quando sono in bilico senza l'entusiasmo non si vince per me senza l'entusiasmo non si vince davanti sono rimasti Vlaovic Milik e Ildiz dei tre ne giocano due e io vi ho insegnato tante volte negli ultimi anni quando Allegri in conferenza stampa parla di ballottaggi e poi parla di un giocatore nello specifico significa che quel giocatore non giocherà e quindi dopo Vlaovic Milik e Ildiz dei tre ne giocano due dice Milik sta molto bene quindi chi secondo voi non giocherà dal primo minuto ha fatto tre goli in Coppa Italia è entrato l'altro giorno e ha fatto bene poi ha fatto partite importanti importante da chi gioca ma quelli che fanno la differenza sono quelli in panchina che devono dare un sostegno e un aiuto importante che è sceso in campo dall'inizio io vorrei scommettere un euro sono aperte le scommesse nei commenti parte da un euro vediamo chi rilancia domani tre attaccanti quello che non gioca dall'inizio è Milik aperte le scommesse nei commenti voglio sapere la vostra opinione e poi gli chiedono cosa perde la Juve senza Rabiot e Allegri dà una risposta che mi fa scomparire magicamente la mano destra perché dice la Juve senza Rabiot perde e io capisco che lui intendeva dire che la Juve perde qualcosa però la Juve senza Rabiot perde è una frase che non mi piace per niente mister proprio guardi per nulla non abbiamo a disposizione due giocatori pronti per giocare la partita di domani Rabiot lo valutiamo il polpaccio è una zona rischiosa non ha traumi e bisogna stare molto attenti Chiesa verrà valutata dai dottori nei prossimi giorni e come dicevo all'inizio su Chiesa sono particolarmente preoccupato e poi chiedono che consigli vuole dare a Mazzarri che in questo momento anche se non c'è ancora un'indagine della procura sportiva la procura normale sta indagando dei laurenti alcuni tesserati del Napoli per la fare Osimè e Allegri diceva Mazzarri non suggerisco niente già faccio fatica a fare il mio sicuro non mi devo dare consigli agli altri e questa credo sia la risposta giusta per quella che è una domanda veramente insensata la vigilia di Lecce Juve ma noi lo sappiamo che tutte le volte che ci sono le conferenze stampa di vigilia della partita poi della partita quasi non si parla mai mai si parla di tutto si parla del Napoli dell'indagine del Napoli dei parocchi dei cavalli di Tortu di come si allena cioè io non lo so d'accordo va bene così non lo so va bene così della partita si è parlato nulla veramente nulla però questo è e quindi questo commentiamo che cosa vi devo dire un grosso in bocca al lupo ai tifosi del Napoli perché noi l'anno scorso l'abbiamo visto sulla nostra pelle abbiamo vissuto sulla nostra pelle è uno schifo quello che poi succede perché poi il calcio passa in secondo piano e già il Napoli quest'anno sta andando male 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 e quindi un in bocca al lupo perché ne avranno bisogno in questo momento saranno concentrati sì sulla finale di Supercoppa ma secondo me non solo perché in testa avranno anche ben altri pensieri e quindi questo è come vi dicevo all'inizio un mi piace un commento un'iscrizione dobbiamo arrivare a 250.000 e io vi ricordo che sul secondo canale Luca Toselli Retro in questi giorni sono stato molto molto attivo perché se sulla Juve eravamo un po' fermi mercato fermo bloccato campionato non si è giocato in Supercoppa non ci siamo mi sono sbizzarrito con altri contenuti sul secondo canale ciao ragazzi ciao